In Argentina mi sento molto legato, molto vicino all'Argentina, perché in Argentina, per esempio, c'è Carlos Monzon. Dice, eh, Carlos Monzon ti ha ganato il Portoglietto. Ma non è vero. Io ho perduto da Carlos Monzon e sono felice di aver perduto da Carlos Monzon, perché Carlos Monzon fu un grandissimo campione e perdere il titolo da un grande campione è una fortuna, è una grande fortuna. E ora se Carlos tiene necessità di aiuto, tiene necessità di una visita di un amico, tiene necessità di sentire l'affetto di un deportista, di un amico, io sono qui per dare a Carlos quello che lui ha bisogno.